Dopo anni sono stati effettuati i lavori di rifacimento di via Muracche 2, strada strategicamente molto importante, ma ci sono delle cose che non vanno. Adriano Capatassi che è il portavoce di Obiettivo d'Ortoeto. Purtroppo abbiamo notato fin da subito, in merito ai lavori di rifacimento della strada via Muracche 2, che presentava subito delle criticità, in quanto i lavori effettuati si vedeva chiaramente che c'erano dei problemi relativi all'asfalto, c'era già fin da subito il brecciolino. Si pensava che fosse un problema da poco, ma poi con il passare dei giorni abbiamo notato subito uno sgretolamento dell'asfalto con buche subito rattoppate e degli avvallamenti, soprattutto vicino allo stop nell'uscita della statale. Dispiace constatare ciò perché comunque si sono stati spesi dei soldi pubblici. È una strada che presentava grosse problematiche fin da subito. c'erano stati grossi problemi con molte buche e quindi era diventata anche pericolosa. Ed è una strada molto importante perché dalla statale porta direttamente sulla panoramica. Pertanto noi abbiamo voluto segnalare questo problema anche in virtù della pericolosità che questa strada ha in questo momento. Qual è il suggerimento che date all'amministrazione comunale? Cioè contestare i lavori? Beh, sicuramente chiederemo all'amministrazione di contestare i lavori perché non è possibile sprecare il denaro pubblico in questa maniera ed ottenere un risultato negativo. pertanto siamo sicuri che l'amministrazione provvederà a contestare i lavori. E non so se al momento è stato fatto oppure no. In ogni caso noi vogliamo ribadire di far sentire la voce dell'amministrazione comunale alla ditta che ha effettuato i lavori. Ok. Grazie.